Buongiorno a tutti, mi chiamo Gabriello Menia e rivesto il ruolo di delegato competente della provincia di Vercelli del PVU Partito Valore Umano. Ho deciso di fare questo video per leggervi, data l'emozione, intanto per ringraziare pubblicamente Maurizio Sarlo per avermi ridato, e come a me, a centinaia di altre persone, la speranza e la voglia di vivere, aderendo al progetto mondo migliore di cui è il ideatore. E che nel 2017 il PVU lo ha adottato come suo programma politico, rendendolo perfettamente costituzionale. Sono ormai circa cinque anni che si sostiene e si promuove questo progetto in tutta Italia, in cui vengono spiegate le vere cause delle cicliche crisi e delle povertà, ma audite, audite, anche una buona notizia. Vengono spiegate anche le soluzioni possibilissime che si possono attuare per risolvere queste cicliche crisi e queste povertà. Questo dimostra che la buona politica, che la vera politica, che la politica con la P maiuscola esiste ancora. Grazie Maurizio, grazie veramente di cuore. Io seguo PVU. Ma c'è anche un altro motivo per cui ho deciso di fare questo video, ed è dato dalla criticità di questo momento storico. E quindi vorrei fare un appello alle nostre autorità. Negli esseri umani è sempre stato chiaro il bisogno di autorità. Quando siamo bambini abbiamo bisogno di qualcuno che è in posizione di autorità, ci dia l'esempio, ci mostre la via, ci sostenga. Ecco, l'autorità è questo. Ma quale esempio ci state dando? Quale via ci state mostrando? In che cosa ci sostenete? Autorità deriva da augere, che vuol dire far crescere. Qualcuno che è già cresciuto abbastanza e che può aiutare qualcun altro a crescere. Ma a crescere in che cosa? A crescere nel proprio sviluppo interiore ed esteriore, nelle proprie capacità umane, nelle qualità dell'essere, nelle qualità della vita, nelle qualità dell'amore. Stanno crescendo esteriormente e interiormente, si stanno proprio sviluppando tutte quelle qualità che sono della paura, della rabbia, della depressione, dell'ingiustizia. Stanno, ci fate crescere, fate crescere quelle qualità umane dell'odio, della frustrazione, dell'egoismo, nelle qualità dell'essere schiavi e in questo ultimo periodo anche carcerati. E la qualità della vita è una lenta e dolorosa agonia, per non parlare delle qualità dell'amore. Tanto da farci la guerra all'un l'altro per un piccolo tozzo di pane. E voi sareste le nostre autorità. Se volete essere degni di questo nome, accettate di sedervi attorno ad un tavolo per discutere con Maurizio Sarlo del suo programma Mondo Migliore. Accogliete questa proposta per il bene di tutti gli italiani e per il bene anche vostro e delle vostre famiglie. Utilizziamo di nuovo il buon senso. Grazie